Signori, ci rivediamo tutti il prossimo anno, è una promessa, mi raccomando! Ciao Venezia! A 24 ore dalla chiusura ufficiale del Carnevale di Venezia 2018 è tempo di bilanci per l'amministrazione comunale. A partire dai numeri degli eventi principali, 40.000 persone hanno assistito ai due voli in piazza San Marco, 11.000 alla festa veneziana sull'acqua. Un volume inferiore a quello degli anni scorsi, come era nelle intenzioni degli organizzatori oltre che nelle prescrizioni del decreto Minniti. Avevamo da affrontare una sfida importante con le nuove normative sulla sicurezza, direi che su questa sfida che poi servirà anche per... cioè non è tempo perso, non è solo per gli eventi ma è anche in una prospettiva futura. Il sistema ha funzionato nonostante qualche criticità di cui la Giunta assicura che farà tesoro per il futuro. Probabilmente dovremmo ragionare anche un po' sulla comunicazione, nel senso che tanti hanno domandato se sarà chiusa tutti i giorni e quindi però queste sono esperienze e gli errori aiutano sicuramente a migliorarsi come è stato per la festa sull'acqua, festa veneziana a Canareggio. Grande successo anche per il modello di Carnevale diffuso nei diversi campi veneziani e soprattutto in terraferma che comincia a essere conosciuto a livello nazionale. Al momento Venezia è l'unica città al mondo, fa notare l'assessore al turismo Paola Marra che rispone di un'offerta di spettacoli di alto livello in una piazza storica e contemporaneamente di sfilate di carri allegorici di grande richiamo come quelle di Marghera e Zellarino. Un'offerta per famiglie, per bambini, culturale, non solo a Venezia ma anche in tutte le città di Venezia e il feedback sia dalla cittadinanza sia da chi lo scopre è ottimo.